amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino abbiamo il piacere di avere oggi con noi l'attaccante mancino dell'equipo orizzonte catania isabella riccioli ciao isabella benvenuta grazie per aver accettato il nostro invito buonasera grazie a voi per l'invito che cosa significa per voi tornare a giocare una partita ufficiale a più di un mese di distanza dall'ultimo beh sicuramente è una gran bella cosa perché per un atleta non non avere ogni fine settimana l'obiettivo è sicuramente difficile e quindi c'è sicuramente tanta voglia di tornare a giocare e di tornare a misurarsi con le altre squadre e quindi non vediamo l'ora di poter rientrare in basca sabato per capire a che punto siamo con il nostro lavoro e per per appunto misurarci con una squadra che comunque è al nostro livello che tipo di lavoro avete svolto in queste settimane che sono state caratterizzate dall'assenza dell'impegno agonistico ti chiedo anche l'ultimo periodo forse non era stato dei migliori se da un lato magari potete aver perso qualcosa come continuità di ritmo partita aver avuto l'opportunità di lavorare con continuità vi ha consentito di ritrovare la condizione atletica migliore e di mettere diciamo registrare gli automatismi di gioco? Allora diciamo che sicuramente se ha dei lati negativi appunto il fatto di non giocare e ne altre tanti positivi perché avendo appunto questo stop riusciamo a concentrarci bene come su come lavorare sia su come migliorare i difetti singoli che i difetti di squadra quindi ci siamo ci stiamo preparando al meglio per arrivare sempre pronte a tutti gli obiettivi che ci si porranno davanti quindi diciamo che abbiamo preso questo tempo per ricominciare e abbiamo lavorato ancora più più forte di prima per appunto colmare anche delle dei gap che ci sono stati e quindi sicuramente l'impegno che abbiamo sabato cade a pennello perché ci darà anche l'opportunità di capire se il lavoro che stiamo facendo è un buon lavoro o meno quindi sicuramente è stato sì da un lato è stato difficile ma anche che è servito e speriamo sia siamo siamo sulla strada giusta speriamo di essere sulla strada giusta Quali sono gli aspetti del gioco su cui a tuo parere la squadra può registrare maggiori margini di progresso? Diciamo che sicuramente tutti non possiamo accontentarci di nulla in qualsiasi momento di gioco ci sono delle cose che possiamo migliorare sia come aspetti di attacco di difesa trasferimenti ogni cosa che noi andiamo ad affrontare va affrontata in maniera propositiva per migliorarla perché se ci accontentiamo ci fermiamo e di sicuro non è questo il momento per fermarsi quindi su tutti gli aspetti dobbiamo cercare di avere dei grandi margini di miglioramento Sabato dicevamo all'inizio si ritorna in acqua il calendario vi propone l'incontro valevole per la terza giornata del preliminary round scudetto trasferta ad Ostia contro la Life Brain Sisse Roma che tipo di partita ci possiamo aspettare? Sicuramente è una partita molto equilibrata perché loro comunque sono una buona squadra e ripeto come dicevo prima serve una partita così per recuperare il ritmo partita che è quello che sta mancando in questi mesi quindi sarà una partita molto molto equilibrata poi comunque su una trasferta quindi non è come giocare in casa ecco loro sicuramente come noi avranno migliorato tanti aspetti del loro gioco saranno più forti su alti avranno capito su cosa dovevano lavorare quindi sicuramente ci sarà una bella sfida in che misura la mancanza del ritmo partita potrebbe incidere sulla vostra prestazione rispetto magari a un'avversaria che ultimamente non si è mai fermata anzi forse paradossalmente ha anche giocato più dell'ordinario ha giocato più dell'ordinario perché loro sono usciti anche dalla coppa quindi hanno giocato di più di noi però diciamo che quello poi va visto sul campo magari il ritmo partita allora non è mancato e noi sì ma può mancare in altro la squadra che andiamo ad incontrare quindi tutto questo si potrà misurare solamente giocandola la partita mettere parole avanti adesso non servirebbe a molto quindi sicuramente il ritmo partita sta mancando per una situazione difficile di per sé però non possiamo andarci a fossilizzare o a pensare che magari potrebbe mancare il ritmo partita noi dobbiamo giocare senza pensare ai sei ma quindi entriamo in acqua e facciamo del nostro meglio Rispetto ai tre precedenti questo è doveroso ricordarlo il quarto incrocio con la formazione capitolina c'è qualcosa che dovete cambiare nell'interpretazione del match oppure vi basterebbe ripetere le precedenti prestazioni per portare a casa un successo che comunque è fondamentale perché nessuna delle due è partita bene in questa fase e c'è un padova che rischia di scappare è importante anche conquistare il primo posto Infatti no, allora sicuramente io per come la vedo io ogni partita è diversa dall'altra quindi dire e replicare le partite che abbiamo fatto in passato sarebbe un grande errore perché non possiamo aspettarci ogni volta la stessa squadra come non possiamo aspettarci è sempre la stessa forma fisica quindi come dicevo prima l'importante è entrare in acqua e affrontare l'avversario e fare la partita che ci si presenta sicuramente è una vittoria che va portata a casa perché appunto come avete detto prima il padova scappa e quindi non possiamo lasciare nulla al caso o speriamo che facciamo le stesse partite che abbiamo già fatto in passato quindi va affrontata con molta concentrazione con molta concezione di quello che andiamo a fare quindi non è niente scontato non vuol dire nulla che il passato ci ha graziato e quindi affrontiamo la partita come se non ci fossero state quali precedenti se dobbiamo andare a individuare i punti di forza o le armi avversarie che potrebbero mettervi in difficoltà su quali giocatrici o su quali aspetti del gioco possiamo concentrare l'attenzione? aspetta perché ti ho perso possiamo concentrare l'attenzione su di loro dici? sì, dei loro punti di forza sia a livello individuale oppure a livello di caratteristiche di gioco quali sono le armi che la formazione capitolina ha per provare a mettervi in difficoltà? diciamo che sicuramente loro sono una squadra che ha sempre molta grinta quindi hanno un gioco abbastanza aggressivo e veloce quindi sicuramente noi ci dobbiamo fare trovare pronte anche su quel punto di vista andare a parlare delle individualità ognuna di loro ha una caratteristica che ci può mettere in difficoltà quindi io e le mie compagne saremo pronte a sapere chi abbiamo davanti e come comportarci in quel momento e poi sta tutto lì e poi ritornando al discorso precedente potrebbe anche essere che facciano cose diverse che noi non ci aspettiamo il fattore sorpresa è sempre importante esattamente quindi non andiamo a vedere un film già visto assolutamente ci auguriamo anzi una prima visione ancora più bella delle esibizioni precedenti perché comunque sono due squadre in possesso di valori tecnici di diciamo grande qualità ti chiedo tu sei giovanissima e hai nel tuo ruolo davanti a te una campionessa come Giulia Emmolo che cosa significa per una giovane che vuole crescere in ambito pallannotistico allenarsi tutti i giorni con una giocatrice che ha vinto in Italia ha vinto in Europa ha vinto con la nazionale italiana vuol dire tanto perché comunque appena ogni allenamento è un momento in cui io posso imparare e rubare fra virgolette da lei perché l'esperienza appunto che ha mi permette di capire anche come lei posiziona il braccio guardare tutto quello che fa sicuramente va al mio vantaggio quindi penso che questa sia una grande fortuna che in pochi hanno certo chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda si è tenuto la scorsa settimana il primo collegiale del nuovo sette rosa a Targato Silipo ti chiedo sul medio lungo termine ce l'hai questo sogno di dire un giorno la calottina del sette rosa la indosserò anche io oppure preferisci lavorare giorno dopo giorno e poi vedere cosa succederà sicuramente il sogno rimane poi bisogna vedere se uscirà dal cassetto e per farlo uscire dal cassetto sicuramente non mi piove dal cielo e quindi dovrò lavorare ogni giorno per tirarlo via con costanza senza pensare al dopo e poi se arriva sta solo a me va bene siamo giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio Isabella Riccioli per essere stata con noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Isabella grazie grazie mille buona serata 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 grazie mille buona serata